Perché fare un'analisi del capello? Ti svegli stanco? Hai mal di testa? O hai vuoti di memoria? Non ti senti così in forma come vorresti? Potrebbe essere l'inquinamento ambientale, che ha un impatto sul tuo benessere. Potrebbe essere la tua alimentazione, che ti lascia senza energia. Quasi tutti noi viviamo in una condizione che preferiremmo non avere. Le potenziali malattie cardiache, l'obesità, il diabete e il cancro, sono molto comuni. Le modifiche del cibo e della dieta, l'aumento dell'inquinamento ambientale, stili di vita stressanti, portano ad un peggioramento del benessere. La maggior parte di noi vive al di sotto dei livelli ottimali di benessere fisico, mentale ed emotivo. I tuoi capelli danno informazioni in modo rapido ed efficace in soli 15 minuti. Il Cell Will Bing genera istantaneamente un report digitale completo, esaminando la presenza nel tuo corpo di tossine, nutrienti, vitamine, minerali, amminoacidi, i fattori immunitari e gli additivi alimentari da evitare. Un singolo capello è uno dei biomarcatori più efficaci. Accumula informazioni su una varietà di processi di tutto il tuo corpo. Gli scienziati sanno da tempo che la chiave per essere più giovani e vivere di più è condizionata dall'ambiente in cui viviamo. Il 98% della nostra salute dipende dall'ambiente, dall'epigenetica e dall'eredità familiare, mentre solamente il 2% dipende direttamente dai nostri geni. Lo stress e l'inquinamento di oggi richiedono una soluzione moderna. Cosa potresti mangiare di sano e utile per avere un cambiamento nello stile di vita? Quali integratori alimentari ti possono essere utili? E quali tossine e fattori nocivi dovresti eliminare? Frequenze elettromagnetiche, chimiche, radiazioni o addirittura parassiti? Con consapevolezza e con le informazioni in un test dei capelli, scoprirai quali aree richiedono attenzione per il tuo piano personalizzato. Le condizioni attuali possono migliorare e le condizioni future possono essere evitate. Fai il test sul vulvo dei capelli oggi, segui i suggerimenti del tuo report e i fattori da integrare o a evitare. Segui il naturale passo dopo passo per migliorarti. Il tuo benessere dipende da te e dall'ambiente in cui vivi. Chiedi il centro di riferimento più vicino a te e inizi a camminare sulla strada della consapevolezza e del benessere per la vera prevenzione. Oggi, in soli 15 minuti, puoi scoprire i fattori che potrebbero condizionare il tuo stato di salute e benessere. Chiama il 0187 1780 859 oppure il 393 91 42 000 oppure scrivi a info at epinutracel.it